E' lo sfiato! 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 Fermate! E' lo sfiato! Fermati un po'! Porco Dio! E' lo sfiato! E' lo sfiato! Deute! E' lo sfiato! No, fammi partire! Fammi partire! Cosa fa di un pilota un campione? Determinazione Velocità Coraggio Ci sono molti piloti con queste qualità, ma per essere un campione spesso non bastano. Bisogna avere qualcosa in più. Perché quando ti spingi fino al limite, quando un solo errore può cambiare tutto, c'è una sola cosa che può fare realmente la differenza. Il controllo Questa è la tua sfida Questo è WRC3 E' amici di Youtube, siamo tornati qui con WRC World Rally Championship modalità Road Glory. Ok, allora continuiamo ad andare avanti con le sfide. Vediamo qui un attimino quello che riusciamo a fare. Io andrei a farmi il gate. Poi abbiamo un bel rally da fare, che saranno sicuramente quattro gare, saranno eh. Si, allora facciamoci questo qui l'abbiamo fatto. No, questo qui non l'abbiamo fatto. Allora iniziamo con lo Special Stage anni 70 Germania. Andiamo avanti. Buona visione a tutti quanti amici di Youtube. Buona visione a tutti. 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 e sinistra 4, apre, notto, destra 5, lunga, 150, coppa, sinistra 3, molto lunga, 40, destra 4, sudosso, destra 4, sinistra 3, dai al centro, 80, sinistra 4, lunga, poi destra 5, alberi all'interno, sinistra 3, lunga, sudosso, e destra 3, stringe, muro all'interno, 80, destra 6, sinistra 3, distringe, 80, destra 4, sinistra 3, 60, sudosso, destra 3, 80, poi destra 5, sinistra 5, 40, destra 2, 100, destra 5, in sinistra 3, stringe, edificio all'esterno, 40, destra 3, barriera all'interno, traguardo. all'interno del corno all'interno Grazie a tutti. 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 Tutto ok? Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. in tornare a tutti. tra 40. e a tutti. 60. molto lunga. e sinistra a tutti. 40. poi... 60. 60. in tornare a tutti. 60. 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